Grazie Presidente, questo ordine del giorno mira appunto a determinare una possibilità di rateizzare i corrispettivi di affrancazione e di trasformazione. Noi ne abbiamo già parlato in Commissione e di fatto seguirà dopo un nostro emendamento che prevede appunto l'introduzione di questa rateizzazione per cui questo ordine del giorno noi lo bocceremo perché propone una modalità che prevede il 50% prima e il 50% in rate. Invece noi con l'emendamento che discuteremo dopo diamo la possibilità di rateizzare l'intero corrispettivo sia di trasformazione che di affrancazione come previsto dal regolamento delle entrate del Comune.